L'Umbito è la permanenza di Stamacca al gennaio? No, per il momento no, però comunque è manco ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, perché sicuramente abbiamo un po' di richieste. L'intenzione nostra è quindi di fratenerle ancora e poi se ne parlerà più avanti. Quindi richieste per Stamacca già anche al gennaio? Non solo per lui, anche per altri fortunatamente. Ne ha pagato una nota, direttore? All'Italia, ha richieste dall'Italia? Ah, questi sono ragazzi comunque dall'Italia sì, ma proprio, perché purtroppo per l'Italia la possibilità di fare investimenti in parte di azioni di club non ce ne sono più tante. Per cui per fortuna diceva il mercato estero.